Sì, appena appena l'ho incontrato. Che ne pensa di questo ritorno al Senato? Io credo che, non voglio dire che Berlusconi sia un santo, che certamente non lo è, ma tutti i processi che sono stati iniziati contro di lui è stato un accanimento giudiziario che non meritava. E quindi il fatto che sia stato rieletto e che voglia sedersi in Senato, io lo trovo come positivo. Lui non ambisce a posizioni di governo e ne altro, ma un riconoscimento per i torti che ha subito in passato. E mi auguro che si comporti bene, naturalmente, per il futuro.